L'Abruzzo e in particolare Roseto saranno palcoscenico del tennis dal 7 al 20 marzo quando proprio il tennis club della Città delle Rose ospiterà gli internazionali Aterno Gas and Power Cup. Saranno le due tappe abruzzesi dell'ATP Challenge Tour sviluppato nella formula del back-to-back. La prima competizione dal lunedì 7 a domenica 13 marzo e subito dopo la seconda dal lunedì 14 a domenica 20. Due tappe che arrivano in un calendario che non prevede in Europa altri tornei della stessa Valenza e ci sarà la possibilità di attrarre tennisti che si misureranno per migliorare il proprio ranking e che potranno iscriversi ai due tornei consecutivi per ognuno dei quali è previsto un monte premi di oltre 53 mila dollari. 80 i punti ATP per i vincitori, prevista tra gli altri la presenza del lituano Ricardas Beranchis, dello spagnolo Carlos Taberner e tra gli italiani di Stefano Travaglia e del giovane Flavio Cobolli. Sì, una bellissima occasione per tutto l'Abruzzo, in particolar modo questo tipo di manifestazione vede il roseto protagonista, poi ci saranno nel calendario della formula che abbiamo chiamato i love Abruzzo, un coinvolgimento anche del resto della regione. Ma questi due ATP che sono due tornei internazionali, gli unici in Europa, sono una grande soddisfazione per la regione Abruzzo. Lo sport è quindi strumento non soltanto di mandare messaggi positivi, ma di entrare nei territori, di capirne le vocazioni e le criticità e di dare una grandissima risposta alla fame di vita e quindi di sport che viene dai nostri territori, dal nostro Abruzzo, dal nostro Abruzzo migliore. Con una possibilità, con i grandi eventi, di una ricaduta economico-sociale di cui i nostri paesi, le nostre città, i nostri concittadini hanno grande bisogno.